18 domande da tutta Italia nel giro di una settimana per un posto da direttore artistico alla guida del Festival Internazionale degli Incontri, il grande cartellone di eventi e spettacoli in via di definizione per celebrare il decennale del terremoto. Un bando lampo pubblicato il 5 marzo sul sito dell'istituzione sinfonica abruzzese scaduto ieri alle 18 e pubblicato con estremo ritardo considerando che il decennale del terremoto ufficialmente comincerà tra meno di 20 giorni. Oltre che dall'Aquila hanno inviato la candidatura esperti da Roma, Teramo, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Bologna, Sciacca segno che c'è molto interesse intorno al Festival come spiega Giorgio Paravano segretario regionale dell'istituzione sinfonica abruzzese lente individuato dal MIBAC per la gestione della manifestazione ideata in realtà dalla presidente del teatro stabile abruzzese Annalisa De Simone. Non ci sono ombre sul compenso spiega anche Paravano fugando qualche dubbio su importi ritenuti troppo alti. Non si dovrebbe arrivare insomma a toccare il tetto dei 150 mila euro paventati negli ambienti culturali aquilani. Già domani intanto si riunirà la commissione che dovrà valutare i curricula dei candidati che sarà composta oltre che da alcuni esponenti dell'ISA anche da un commissario del Ministero per i beni culturali che contribuirà a vigilare sulla regolarità dell'iter. Tra gli eventi previsti in un cartellone ancora tutto da riempire anche alcuni momenti dedicati ai paesi che hanno contribuito a ricostruire alcuni monumenti dell'Aquila tra cui la Russia, la Francia, la Germania.